ho una nuova sedia ebbene sì tanto te ne sareste accorto comunque ma te ne parlo più tardi perché prima voglio introdurti l'argomento del giorno e l'argomento del giorno è un software fondamentale che mi ha fatto conoscere pochi giorni fa un cliente e che sinceramente mi ha lasciato molto colpito e ho pensato che dovevo presentartelo quanto prima di che cosa si tratta come avrai visto dalla copertina del video di un vero e proprio pulsante del panico che ci consente di uscire dalle situazioni più difficili ma anche di fare molte altre cose come se fosse una sorta di minuscolo ma fondamentale coltellino svizzero e allora cosa siamo qui a perdere tempo a fare andiamo a vederlo insieme e se ti senti pronto iniziamo va bene la smetto di fare lo scemo però sono veramente felice perché in questi giorni si è realizzata una congiunzione astrale favorevole che appunto mi ha messo di buon umore che cosa è successo devi sapere che ho fatto una tragedia cosmica con tutti quanti i miei clienti che me una sedia ergonomica piuttosto vecchia si è rotta ha tirato le cuoia e non era neanche riparabile e allora ho iniziato a frignare con tutti perché non riuscivo a trovare un'altra sedia che potesse sostituire adeguatamente il mio storico poggiaterga ebbene manco a farlo apposta giurin giurello in questi giorni mi è arrivata una proposta sulle proposte commerciali del canale di un'azienda che produce sedie di ufficio sedie ergonomiche e molte altre cose affinché provassi uno dei loro prodotti e potevo dirgli di no gli ho chiesto immediatamente di mandare una sedia che è arrivata in tempo di record era una marca che non conoscevo e ti presenterò a breve e già quando ho aperto il pacco sono rimasto piacevolmente sorpreso perché innanzitutto era compreso l'unico attrezzo necessario a montarla e questo è molto comune c'era il manuale in lingua italiana e questo già è meno comune ma la cosa rarissima era che c'erano tutti i ricambi di ogni singola vite di ogni singolo bullone contenuto nella sedia per cui se ne avessi smarrito uno o se lo avessi perso successivamente avrei potuto sostituirlo ma come se non bastasse c'erano addirittura i guantini per non sporcarsi le mani durante il montaggio ho montato questa sedia l'ho provata e le mie impressioni in merito sono decisamente positive ma aspetta un attimo perché te la faccio vedere questa sedia dispone di uno schienale regolabile in modo da adattarsi perfettamente alla tua altezza i due supporti lombari sono incredibili perché sono completamente snodati come vedi e possono aderire perfettamente alla forma del tuo corpo infatti grazie ad una coppia di molle per ogni lato sono in grado di effettuare in maniera indipendente qualsiasi movimento i braccioli sono completamente regolabili in profondità e sono liberi di ruotare intorno al loro asse in modo da venire incontro alle tue preferenze di seduta e naturalmente possono essere regolati anche in altezza lo schienale infine può essere riclinato di 135 gradi in caso di pisolino last but not least il tessuto è completamente traspirante ebbene sì perché sarà per l'ergonomia sarà per questo magico tessuto di cui è fatta io non ho l'impressione di stare seduto su una sedia ma letteralmente appoggiato anzi di galleggiare su una nuvola inoltre sono riuscito a montarla in soli cinque minuti e ti garantisco che io sono veramente negato per queste cose ma ci sono anche due lati negativi che non posso non evidenziare il primo è il fatto che adesso voglio un'altra sedia qui per lo studiolo perché questa purtroppo dovrò portarla in studio ed il secondo è che mi è passata completamente la voglia di alzarmi e quindi sicuramente per tutto quello che mangio durante i video ingrasserò ancora di più ma basta adesso torniamo a noi e al nostro argomento del giorno ma prima svolgiamo il rituale apotropaico per placare le divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va lo strumento che voglio mostrarti oggi è davvero imperdibile pur nella sua incredibile semplicità andiamo prima a scaricarlo e a procurarcelo e poi vediamo in breve che cosa fa e come funziona per farlo facciamo doppio clic sul nostro browser e nel motore di ricerca digitiamo come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato mi raccomando quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it clicchiamo per aprire il nostro sito e nel menu in alto spostiamoci sulla sezione downloads una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download dal nome molto minaccioso si chiama infatti kill em all ammazzali tutti ma attenzione potremo scaricarlo facendo clic sul pulsante file download se lo troveremo qui se avessimo per caso difficoltà invece a individuare questo download potremo andare qui in alto sulla lente di ingrandimento cliccarci su e digitare proprio il nome di questo programma ovvero kill em all una volta che lo avremo digitato premiamo invio effettuiamo la nostra ricerca e si aprirà la pagina con i risultati clicchiamo sul nome kill em all per andare a scaricarlo e una volta scaricato facciamo clic su questo pulsante per mostrare la cartella che contiene il nostro download normalmente chiudo la pagina retrostante ma in questo caso e capirai dopo perché la lascio aperta ma la riduco ad icona quello che dobbiamo fare a questo punto è un clic destro sul file che abbiamo appena scaricato seguito dalla scelta della voce estrai tutto clicchiamo sul pulsante estrai e ci troveremo la cartella di kill em all che in questo caso andiamo a chiudere dopo di che torneremo sulla finestra dove abbiamo scaricato il nostro file prenderemo la cartella e mi raccomando non il file zip ma la cartella questa qui e la trascineremo sul nostro desktop potremo quindi chiudere la finestra dei download fatto questo attenzione apriamo la cartella di kill em all clicchiamo e teniamo premuto il pulsante destro del mouse su questo file quello che si chiama kill em all e lo trasciniamo qui in basso sulla barra per creare un collegamento che ci sarà credimi molto utile in futuro fatto questo possiamo finalmente chiudere la finestra ed eccoci giunti al momento della verità perché adesso dobbiamo provare il nostro kill em all per farlo possiamo cliccare sull'icona che abbiamo appena creato nella barra delle applicazioni ma non prima di aver notato che sul mio pc ho aperto diversi programmi che vanno dal notepad al solitario all'app foto a google chrome microsoft edge e così via apriamo il nostro kill em all e posso vedere la tua faccia delusa ti aspettavi qualcosa di più scenografico e invece ci ritroviamo di fronte ad una finestrella nera da un lato piuttosto anonima e dall'altro diciamo un pochino ostica e anche inquietante ma quello che abbiamo appena fatto è stato creare un pulsante del panico ma a che cosa serve un pulsante del panico ebbene devi sapere che i suoi utilizzi sono i più disparati può servire nel momento in cui abbiamo il sospetto che ci sia in azione un virus sul nostro computer e con la pressione di un solo tasto potremo terminare tutti i processi non direttamente afferenti a windows e quindi terminare qualsiasi cosa virus compresi sia in esecuzione sul nostro computer ma non basta perché possiamo anche utilizzare il nostro pulsante del panico nel momento in cui abbiamo aperto troppe applicazioni e ci rendiamo conto che le risorse del pc sono in esaurimento e il pc non va più oppure nel momento in cui un programma si sia quasi completamente bloccato e non ci lasci lavorare sul computer ebbene anche in questi casi con la pressione di un singolo tasto potremo sbloccare tutta quanta la situazione senza problemi di sorta e senza andare a vedere che cosa è stato nello specifico a creare il nostro crash il nostro blocco o il nostro rallentamento prima però dovremo configurare adeguatamente il nostro kill em all per farlo premiamo come ci viene indicato qui il tasto c per passare alla configurazione clicchiamo su c sulla tastiera e vedremo che si apre questa finestrella in questa finestra cliccheremo per spuntare always force run as administrator e cliccheremo anche su always terminate programs immediately before prompt questo serve a eseguire automaticamente questo programma come amministratori e a terminare immediatamente tutto quello che non è necessario sul nostro computer senza che ci vengano richieste conferme di sorta in realtà ci sono anche altre configurazioni che si potrebbero fare ma l'unica che vale la pena conoscere in questo momento è quella che viene aperta dal tasto allowed programs che cosa possiamo fare qui dentro qui all'interno possiamo scrivere i nomi degli eseguibili dei programmi che non vogliamo che invece vengano terminati quando utilizziamo kill em all ad esempio se siamo affezionatissimi al nostro prompt dei comandi scriveremo cmd punto exe salveremo e usciremo tramite la pressione di questo tasto e potremo finalmente provare il nostro kill em all in questo caso io andrò a premere il pulsante a quello che esegue kill em all come amministratore e vedremo che tutti quanti i programmi superflui aperti su questa barra scompariranno immediatamente premiamo il tasto a sulla nostra tastiera confermiamo con si attendiamo mezzo secondo e come vedi il nostro computer è stato istantaneamente ripulito da tutto il superfluo ma non solo possiamo vedere qui un elenco completo di tutti i programmi e le applicazioni e i processi che kill em all è andato a interrompere per noi allora come funziona kill em all come devo utilizzarlo nella mia quotidianità ebbene se ti trovi in uno dei casi che ti ho appena descritto oppure se hai urgenza di far scomparire tutto quanto il contenuto del tuo desktop capisce a me tutto quello che devi fare è semplicemente ora che lo abbiamo configurato cliccare sull'icona di kill em all cliccare su sì e alla velocità della luce si chiuderanno tutte le altre finestre e per chiudere quella di kill em all basta premere un tasto qualsiasi sulla tastiera e la finestra scomparirà benvenuto nel tuo desktop pulito e nel computer anche un pochino velocizzato dato che abbiamo chiuso tante cose che non ci servono più credimi sulla parola se ti dico che avere sotto mano un pulsante del panico è sempre un'ottima idea esperienza di vita vissuta ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che come di consueto salutarti e darti appuntamento alla prossima io mi godo ancora un po la mia si hu